Tieniti forte sulla tua sedia, stiamo per vedere insieme alcuni eventi insoliti immortalati in diretta televisiva, che sia una presentatrice arrestata in diretta dalla polizia o un giornalista che si fa volgere la testa dalla proboscide di un elefante, la televisione in diretta ha sempre saputo offrirci un mix sorprendente di momenti comici e imbarazzanti. Si inizia, ma prima sapresti rispondere a questa domanda. Chi sono stati i primi presentatori di Striscia la Notizia? A. Gianfranco D'Angelo ed Ezio Greggio. B. Ezio Greggio e Raffaele Pisu. C. Gino Bartali e Sergio Vastano. Scrivi la tua risposta nei commenti, vedremo se hai ragione o no prima della fine del video. Nel famoso gioco televisivo The Price is Right, una scena insolita è accaduta nel momento in cui il presentatore Drew Carey annuncia la vincente del turno preliminare, una certa Sona. Quest'ultima, raggiante, viene allora invitata a raggiungere Carey sul palco. Ma invece di andarci serenamente, Sona ci andò correndo e balzò per saltare tra le braccia del presentatore. Questo momento di euforia fece ridere a crepapelle il pubblico, ma fu comunque un po' pericoloso per il presentatore Drew Carey. Infatti, Sona gli fece perdere l'equilibrio e caddero entrambi per terra, vicinissimo al bordo. Per fortuna, la caduta non era violenta. Infatti Carey si rialza tutto sorridente e non si mostra affatto turbato da questo incidente. Nemmeno Sona, peraltro, la quale non sentì nemmeno l'esclamazione umoristica di un membro dello staff che le aveva gridato, evita di rompere il nostro presentatore. In ogni caso, era troppo felice per sentirsi imbarazzata. E ciò si capisce, perché è la felice vincitrice di una bella auto nuova. Beh, fu un momento divertente che contribuì un po' ad aumentare la popolarità di questo programma già famoso. Gli elefanti hanno indubbiamente molto umorismo. Questa sequenza, diventata virale, peraltro lo mostrerà. Si tratta di un servizio in diretta, realizzato dalle terre selvagge del Kenya. Alvin Kaunda, un giornalista locale, si prepara a prendere la parola per presentare un'organizzazione che opera per la protezione e il benessere degli animali orfani. Ma ecco, non tutto va come previsto. Infatti, nel bel mezzo del servizio, un cucciolo elefante, un po' giocoso, decise di punzecchiare il nostro giovane giornalista. Quest'ultimo faceva del suo meglio per mantenere la calma e per restare serio, mentre il giovane pachiderma gli soleticava la parte alta del cranio, poi la fronte, poi il naso, poi tutto il viso, così tanto che infine Alvin non pote resistere. Scoppiò a ridere. E come vuoi fare un servizio quando un elefantino si diverte a ricoprirti completamente il viso? Senza sorpresa, questo fatto divertente ha velocemente conquistato il cuore degli internauti e le reazioni entusiaste non hanno tardato a diffondersi sui social. Ecco uno dei momenti più stravaganti della televisione americana. Siamo a Filadelfia durante una serata elettorale. In quell'occasione il giornalista locale Dave Marchesky annuncia la vittoria della nuova eletta dei democratici Patty Kim. Fin qui va tutto bene. Ma nel momento in cui Dave trasmette i risultati ai telespettatori, un fatto inaspettato stava accadendo sullo sfondo. Un uomo, serenamente seduto al bancone, visibilmente annoiato, attirerà su di sé tutta l'attenzione. Sotto gli occhi di tutti si impossessò senza il minimo imbarazzo di un vaso di fiori pieno d'acqua e iniziò a berlo. Fece questo movimento in modo così naturale come se fosse una birra bella fresca. E dopo essersi dissetato bene, considerò in modo serio questo flacone originale. Poi fece un gesto con la testa, indicando che approvasse la qualità di questa bevanda. Bisogna sapere che questo degustatore eccentrico sapeva di essere filmato, e tra l'altro alcune voci avanzano che fosse un partigiano del candidato sconfitto durante queste elezioni. Inutile dire che non fosse molto felice quella sera. In ogni caso, come hai potuto vedere, ha bevuto il calice fino all'ultima goccia. Questa specie di bravata, fatta con spensieratezza, non ha fatto altro che accentuare la curiosità che ha suscitato nei telespettatori. Era un modo improprio di manifestare la sua disapprovazione davanti alla sconfitta del suo candidato, o forse era semplicemente un mezzo per esprimere la sua delusione a modo suo. Comunque sia, questa scena è diventata un momento memorabile di quella serata elettorale. Nello studio televisivo The Price is Right, il presentatore George Gray ha vissuto una situazione delle più imbarazzanti, e di cui gli piacerebbe proprio che nessuno si ricordasse. Ma purtroppo per lui, tutti se la ricordano. Lo vediamo molto frizzante correre all'indietro su un taperolan, e facendo la promozione dei regali del giorno, che includono tra le altre cose una moto e un nuovo forno. Tutto sembra svolgersi in modo normale. Il presentatore, famoso per la sua energia, annunciava quindi le vincite potenziali quando improvvisamente divenne lo zimbello dello studio televisivo. Infatti, tenendo la mano per afferrare il copione che gli veniva presentato, perse l'equilibrio e fece una caduta spettacolare. La sorpresa fu generale, a tal punto che il candidato e i modelli del programma ebbero un'espressione scioccata e preoccupata, ma il presentatore, professionista fino alla fine, non si lasciò destabilizzare, benché disteso per terra, continuò a leggere i dettagli dei regali da vincere. Ecco un momento di televisione memorabile. Ah, questi americani hanno il senso dello show anche nei momenti ridicoli. Wrestlemania è uno degli eventi sportivi più importanti e più eccitanti nel mondo del wrestling professionistico. Infatti, è qui che i più grandi nomi di questo sport si ritrovano per partecipare ad incontri sensazionali, scontri preparati e anticipati per mesi, ma è anche uno spettacolo di intrattenimento a tutti gli effetti. Infatti, ci sono performance musicali di artisti di fama mondiale, comparse di celebrità e dei momenti emblematici. Beh, se ami l'azione, il dramma, lo spettacolo e lo sport, Wrestlemania include tutto ciò, e non è sorprendente che questo intrattenimento sia seguito da milioni di fan. Tra i colpi di scena di questo spettacolo c'è stato, alcuni anni fa, questo storytelling divertente tra Mandy Rose, Nia Jax e Shina Basler. Ecco quindi cos'è successo. Mandy Rose, una lottatrice molto famosa, fa il suo ingresso trionfale accompagnato dalla sua partner Dana Brooke, ma ecco scivola e cade. Si rialza maldestramente, con l'espressione imbarazzata, ma finisce per ridere della situazione. Ciò può succedere, dirai, ma laddove la situazione divenne davvero divertente fu durante l'episodio successivo, durante il quale Nia Jax e Shina Basler presero apertamente in giro Mandy Rose. Infatti, le due donne visionarono la scena della caduta in continuazione, sganasciandosi dalle risate. Tuttavia, queste prese in giro irritavano Mandy e la sua partner, le quali entrarono subito in azione. E il meno che si possa dire è che fecero rimpiangere a Nia Jax la sua arroganza. Tra tutti i programmi televisivi del Cile, Mucho Gusto si distingue come un programma mattutino davvero molto popolare. È famoso per il suo mix di franche risate, notizie, divertimento e di affiatamento tra tutta la squadra. Un giorno particolare, tutto il personale non vedeva l'ora di celebrare il compleanno di una delle loro colleghe molto apprezzate, la giornalista Paulina de Allende Salazar. Ed è Diana Bolocco, figura familiare e amata dal programma, che aveva il compito di offrire la torta di compleanno. Il programma è trasmesso in diretta e l'atmosfera era piena di eccitazione e di festa. Ma Diana ha scelto di tenere la torta con una mano sola. Grave errore. Infatti, mentre Diana si avvicinava a Paulina, tutta sorridente e pronta a condividere un abbraccio caloroso, l'inevitabile accadde. La torta le scivolò dalle mani e si schiantò al suolo sotto gli occhi attoniti degli spettatori e del personale di studio. Ma lo stupore iniziale lasciò velocemente spazio a una risata generale. Questo incidente, lontano dal rovinare la festa, l'alzò a un livello di umorismo e di spontaneità ancora più divertente. Per aggiungere giovialità, Roberto, un altro membro della squadra, ha voluto divertire il pubblico gridando che fosse pronto a mangiare la torta caduta per terra. Allora buon appetito, Roberto. Ben Shepard è un giornalista inglese sotto contratto con il canale televisivo britannico ITV. È anche presentatore, attore e in alcune occasioni un atleta. Nel 2016 ha peraltro partecipato a un torneo di triathlon. Così, alla fine di questa rude prova, è comparso nel programma Good Morning Britain in compagnia di due giornalisti. Una di loro, tiene il microfono in mano, è Kate Garraway. L'obiettivo del programma è semplice. Si tratta di congratulare Ben Shepard per la sua performance e di invitarlo a fare una crioterapia, in vista del suo recupero muscolare. Tutti e tre stanno quindi davanti a una vasca da bagno piena di acqua fredda, ed è giunto il momento per Ben Shepard di immergersi. Senza esitare troppo, quest'ultimo scivola allora nell'acqua sotto gli applausi del pubblico. Ma la cosa più sorprendente non è questa, perché quando Kate gli chiede le sue impressioni, Ben la attira bruscamente verso di lui nell'acqua fredda. No, non sogni. La povera donna si è proprio ritrovata, a metà immersa nella vasca da bagno. Ovviamente questo momento fece ridere a crepapelle tutte le persone presenti. Tuttavia, inutile dire che questo scherzo può essere visto molto male. Per fortuna Ben e Kate sono degli amici molto stretti e quest'ultima non ha giudicato che lo scherzo fosse offensivo. Direzione Regno Unito. Allison, una presentatrice famosa, era in diretta a Liverpool per presentare il meteo in un ambiente insolito. Infatti si trovava su una mappa galleggiante, in un bacino circondato da banchine, pronta a dare le previsioni. Era accompagnata da due marinai a petto nudo, ma velocemente tutto va a rotoli. Il suo vestito si è innanzitutto incastrato a una scultura di drago gallese. Poi, volendo saltare dalla Scozia all'Irlanda del Nord sulla mappa galleggiante, Allison spinge senza farlo apposta il marinaio che voleva darle una mano e che si ritrova nell'acqua. Il povero uomo ha dovuto dimenarsi per uscire, bagnato fradicio. In un mix di sorpresa e vergogna, Allison ha urlato «Oddio, prendi un asciugamano!». Nonostante questo incidente esilarante e da buona professionista, Allison ha ripreso le sue previsioni meteo come se niente fosse. Sì, questi sono istanti di follia che la televisione in diretta ci offre a volte. David Cameron, ex primo ministro britannico, è stato il bersaglio di molti scherzi un giorno che era in diretta televisiva. Era durante la vittoria elettorale eclatante di Boris Johnson. David Cameron era allora invitato a commentare questo successo ed espresse senza riserve il suo sostegno al neoeletto. Ma ciò che c'è di comico è che David Cameron stava vicino a un albero e parlava a un interlocutore piazzato fuori dal campo della telecamera. Quando l'intervento finì, Adam Bolton, il presentatore di Sky News, fece uno scherzo memorabile che divertì a lungo migliaia di spettatori. Beh, aveva detto «non so perché parla un albero». Questo tratto di Bolton ha fatto felici gli internauti perché David Cameron sembrava proprio conversare con l'albero vicino al quale stava. Beh, era una nota leggera che veniva a rallegrare un po' questa giornata dominata dall'attualità elettorale. Conosci sicuramente X-Factor, ma non ti ricordi probabilmente di questa cantonata commessa dal presentatore Holly Mars nel 2015. I due cantanti, Monica Michael e Anton Stevens, stavano davanti alla giuria aspettando il verdetto del pubblico per sapere chi dei due sarebbe stato eliminato. Ma non tutto va esattamente come previsto. Il presentatore, Holly Mars, di solito così sicuro di sé, ha commesso una leggerezza evitabile. Infatti, senza nemmeno che la busta fosse aperta, si lascia sfuggire l'esito dei voti e dice «mi dispiace Monica, torni a casa». Un silenzio imbarazzante invade allora lo studio televisivo, perché Monica non era stata ancora ufficialmente eliminata. Allora, il presentatore si è subito reso conto dell'errore, il suo viso si è sfatto e ha presentato delle scuse a più riprese. Ma questo non è bastato ai telespettatori appassionati. Infatti, fu uno sconvolgimento per i fan che non tardarono a reagire sui social. Il Pianeta Twitter si è così scatenato, alcuni parlavano persino di trucco. Ritroviamo Alison Hammond per un nuovo fatto di cronaca insolito. La presentatrice del programma This Morning, trasmesso su ITV, ha vissuto un momento imprevisto e inquietante. Era durante un servizio in diretta, in piena giornata, nel cuore della pittoresca città di Pisa. Infatti, mentre presentava il nuovo concorso organizzato dal canale, è stata improvvisamente interrotta. Una poliziotta italiana fa irruzione davanti alla telecamera, ordinandole di smettere di filmare. In uno slancio di panico, ma sempre con umorismo, Alison annuncia ai telespettatori che si sta per far arrestare. E nel frattempo, a Londra, i suoi colleghi presentatori, Holly Willoughby e Philip Schofield, non credono ai propri occhi. Alison, impegnandosi a conformarsi agli ordini, obbedisce e se ne va a rispondere alle domande degli agenti italiani, i quali le chiedono probabilmente se ha l'autorizzazione di filmare. Alcuni spettatori, divertiti dallo spettacolo, si sono tuttavia chiesti se tutto ciò non fosse stato orchestrato. A volte succede che i bambini rubino la scena agli adulti nel più inaspettato dei modi. Il professor Robert Kelly può testimoniarlo. Esperto della politica coreana, quest'ultimo era invitato su BBC World per dibattere di un argomento serio, la destituzione della presidente sudcoreana Park Geun-hee. Mentre Robert Kelly era immerso nella sua analisi, sua figlia, seguita da vicino dal suo fratellino a bordo di un girello, fa irruzione nella stanza, giocando, saltellando. Le cose si complicano di più quando una donna entra nella stanza in urgenza per riprendere i due bambini, entrati come pereffrazione. Quando sono stati recuperati, il nostro esperto si confonde, ovviamente, in scuse, ed è qui che la donna torna a quattro zampe per richiudere la porta nel più discreto dei modi, senza rendersi conto un solo secondo che appare nel quadro. Ovviamente questo momento di vita, carino e insolito, è diventato virale. Infatti, la serietà della situazione contrastava perfettamente con l'interruzione infantile che ha velocemente fatto il giro del mondo su internet, e si capisce perché. Questa sequenza video è perlomeno comica. Immagina di arrivare per un colloquio di lavoro e di ritrovarti, con tua grande sorpresa, in diretta televisiva. Ecco ciò che è successo a Guy Goma, candidato per un lavoro da contabile nel servizio informatico della BBC. Quest'ultimo è stato scambiato per un esperto in tecnologia di nome Guy Keweeny, il quale doveva esprimersi su un litigio giuridico tra Apple Computer e l'etichetta dei Beatles, Apple Corps. Quindi, quel giorno, Guy Goma è passato da candidato anonimo a una star del web. Mentre aspettava serenamente nella hall della BBC, un equivoco incredibile accade. Un produttore, cercando di ritrovare Guy Newey, viene orientato male dalla receptionist. Così, invece dell'esperto tecnologico, è Guy Goma, che si ritrova ad essere scortato verso lo studio televisivo. Goma, incuriosito dalla piega degli eventi, ma ancora convinto che avrebbe fatto un colloquio, viene allora spinto sotto i riflettori. Il momento in cui il presentatore lo chiama Gay Newey è per lui uno shock, e peraltro una confusione papabile si legge sul suo viso. Nonostante ciò, Goma dimostra sangue freddo e tenta di rispondere alle domande che gli vengono fatte. Infine, questo candidato non ha ottenuto il lavoro per il quale si candidava, ma invece di ciò ha guadagnato una notorietà forse ancora più vantaggiosa. Nel febbraio 2017, durante la cerimonia degli Oscar, uno dei presentatori si è reso colpevole di un incredibile errore. Una cosa che non si era mai vista. Tutto inizia quando bisogna annunciare il premio del miglior film. Per questo, Warren Beatty e Fy Dunaway, due leggende viventi del cinema, salirono sul palco per rivelare il grande vincitore. Ma ecco che un errore magistrale accadde. Invece di ricevere la busta contenente il nome del miglior film, Warren Beatty si ritrovò con quella del premio della miglior attrice. Il povero uomo un po' confuso vi lesse il nome di Emma Stone per il suo ruolo in La La Land e istintivamente passò la busta alla sua collega Fy Dunaway. La famosa attrice, senza diffidenze, dichiarò allora La La Land come il vincitore del miglior film. La squadra della commedia musicale salì quindi sul palco, pronta a ricevere gli onori e a fare il loro discorso. Ma il sogno fu di breve durata. Infatti, nel bel mezzo dei ringraziamenti, una voce risuonò nel teatro, annunciando che il vero vincitore fosse Moonlight. Il pubblico fu stupito. Davanti a una tale situazione, Jordan Horowitz, uno dei produttori di La La Land, prese la parola e ammise questo errore inverosimile. Con un'eleganza straordinaria, annunciò che Moonlight fosse il vero vincitore del premio del miglior film. Ecco un bel ribaltamento di situazione. E che nessuno aveva sceneggiato. Gogglebox, il famoso programma britannico, ha offerto molti momenti esilaranti in televisione. Uno dei momenti più comici coinvolge i due migliori amici, Jenny e Lee. Mentre guardano la tv, Lee mastica patatine inzuppate in ciò che pensa essere una crema alla menta. Tuttavia non è affatto così. Infatti, Jenny le informa immediatamente che la crema alla menta è in realtà la maschera facciale che aveva messo nel frigorifero per tenerla fresca. Colto dal disgusto, Lee risputa velocemente la maschera, mentre Jenny lo guarda, divertita e inorridita al contempo. Di sicuro ciò le avrà tolto qualsiasi appetito. Siamo in Inghilterra, a Londra, in un palcoscenico stracolmo nel cuore dei Teen Awards della famosa Radio One. Sul palco c'è la star dei reality show, Gemma Collins. Famosa per le sue partecipazioni in Loft Story e I Am Celebrity, Girl Me Out of Here. Ha come ruolo questa sera di annunciare il premio del programma dell'anno. Tutto sembra perfettamente orchestrato per lei, ma un piccolo problema sta per accadere. Subito dopo aver annunciato il vincitore, Love Island, il suolo si apre letteralmente sotto di lei. Povera Gemma, non ha avuto tempo di evitare la botola spalancata. Per fortuna non c'era molta profondità e non si è ferita. Non preoccuparti, ha offerto comunque momento di televisione degno delle più grandi papere. Mentre si riprende, dimostra un sangue freddo che bisogna elogiare. Infatti, qualche minuto dopo, con un grande sorriso, aveva assicurato ai giornalisti che, ad eccezione di questa caduta in mezzo alla scena, stava trascorrendo la miglior serata della sua vita. Queste immagini non mostrano davvero come un dibattito rispettoso dovrebbe svolgersi, ma l'opposto. Si tratta di un faccia a faccia politico sul canale Seven Stars. Fin dall'inizio vediamo i due partecipanti molto tesi e si sente chiaramente la rabbia nelle loro voci. Il presentatore prova ad evitare qualsiasi sbandata, ma è difficile, perché più gli ospiti parlano, più sono in disaccordo. Dopo un breve momento diventano così agitati che scuotono letteralmente la tavola, arrivando persino a sollevarla. Il presentatore è allora sopraffatto. Ma è qui che la lite diventa divertente. Questi uomini, d'apparenza molto seria, iniziano a spingersi con il tavolo, un po' come dei bambini di 8-9 anni. Il presentatore, per quanto gli riguarda, non può più intervenire e li lascia dimenare nel loro odio reciproco. C'è stato bisogno che la squadra tecnica intervenisse per separarli? Si immagina che questo incidente abbia compromesso per sempre la reputazione di questi due uomini, che sembravano essere delle persone rispettate. Holly Willoughby, eminente presentatrice televisiva e modella britannica, ha segnato gli animi presentando una varietà di programmi divertenti. La sua presenza sul piccolo schermo, impreziosita dal suo fascino e la sua disinvoltura naturale, l'ha resa una personalità molto famosa e apprezzata della televisione. Un giorno, mentre aveva previsto di presentare un programma di intrattenimento particolare, Holly ha deciso di far prova di un po' di coraggio. In uno spirito innocente, pieno di umorismo, ha progettato una piccola stravaganza per vivacizzare il programma e stimolare gli ascolti. Il piano? Beh, doveva salire su un piccolo treno elettrico e percorrere il circuito che serpeggiava intorno allo studio televisivo. E per aggiungere un tocco carino a questa scena, aveva deciso di fare questo circuito con un orsacchiotto coccolato tra le sue gambe. Tuttavia, l'avventura ha preso una piega inaspettata. Mentre era a metà strada, la piccola vettura verde ha deragliato. In mezzo alle risate generali, Holly e l'orsacchiotto sono stati espulsi e sono caduti a testa in giù. È difficile immaginare una situazione più buffa. L'idea del treno elettrico era già abbastanza strampalata senza che ci fosse bisogno di cadere in modo ridicolo. Per fortuna, tutto è finito in allegria e buon umore. Holly non è rimasta ferita e, in fin dei conti, queste immagini hanno divertito il pubblico sul set e i telespettatori. Lina Alwash, rispettata presentatrice del telegiornale su MediOne in Marocco, è molto famosa per la sua serietà e il suo professionalismo. Un giorno decide di far scoprire la sua giovane figlia il mondo della televisione, portandola con sé nello studio televisivo. La bambina, di 5 o 6 anni, esplora le quinte con curiosità, mentre sua madre si prepara per il programma in diretta. Pensando che il programma non sia ancora iniziato, si avventura improvvisamente dietro Lina, con un telefono in mano, e appare sullo schermo. Tuttavia, l'apparizione inaspettata di sua figlia non disturba la presentatrice. Con una calma perfetta, Lina continua a fornire le notizie senza essere distratta. Di sicuro, dopo questa esperienza insolita, Lina avrà avuto una piccola conversazione con sua figlia. La prossima volta le ricorderà sicuramente di non avventurarsi nello studio televisivo durante il programma, o forse deciderà semplicemente di non portarla più al lavoro, cosa che sarebbe sicuramente più prudente. Nel mondo televisivo, degli istanti tanto sorprendenti quanto insoliti accadono. Un episodio emblematico coinvolge Jane Hill, una presentatrice esperta della BBC. Infatti, in piena diretta, è stata vista grattarsi macchinalmente il seno prima di riprendere con eleganza il suo ruolo da presentatrice. Come se niente fosse. Questa scena ha lasciato i telespettatori sconcertati, suscitando una serie di reazioni. In realtà, bisogna dirlo, questo gesto banale nascondeva una realtà molto più complessa. Infatti, un po' di tempo prima, Jane aveva dimostrato un coraggio immenso, subendo in segreto una masectomia in seguito a una diagnosi di tumore al seno. Per sei mesi aveva abbandonato lo studio della BBC per combattere contro la malattia, lontana dalle telecamere. Ed è soltanto l'anno successivo che ha svelato apertamente questa lotta personale. La presentatrice ha continuato a fare il suo lavoro con il suo professionismo abituale, senza mai lasciare trasparire il peso della sua lotta. Infine, due anni dopo la sua diagnosi, Jane ha ricevuto la notizia che aspettava. Era ufficialmente guarita. Questo annuncio ha segnato la fine di una prova che i suoi medici hanno descritto come il periodo più spaventoso. Questa vittoria sul cancro Jane l'ha proprio celebrata come puoi immaginarlo. E' tanto meglio per lei. Così finisce il nostro video. Si spera che ti sia piaciuto. Hai trovato la risposta esatta? Se hai scelto la risposta A, bravo! Sono infatti Gianfranco D'Angelo ed Ezio Greggio, i primi presentatori di Striscia la Notizia. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto! Ciao! 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 Ciao!